Sorgerà nei pressi di Punta Penna Grossa la porta d'ingresso della riserva di Torre Guaceto, lo ha annunciato il presidente del consorzio Mario Taffaro, illustrando il programma di valorizzazione dell'area protetta. Prevista la realizzazione di una zona attrezzata esterna alla riserva con percorsi ciclopedonali, uno spazio per l'accoglienza dei turisti dotato di aree di sosta per le auto e per il noleggio bici e un corner per la vendita di prodotti biologici coltivati all'interno della riserva. Il progetto prevede anche il recupero di un vecchio fabbricato rurale, si attende adesso la valutazione di impatto ambientale per il Via Libera ai lavori.